Sabato scorso abbiamo visto questo tesuji, il colpo alla pancia delle pietre, Nero gioca qua e cattura le due bianche salvando le sue. Se spostiamo tutto in una linea più qua, questa mossa però non funziona più, perché bianco viene qui, Nero collega come avevamo visto Sabato ma quando bianco da questo Atari non succede niente di particolare, nero collega, bianco collega o gioca qui e comunque ha tante libertà in più di Nero e quindi lo va a catturare, ma magari anche qua. Per cui questo tesuji non va più bene, eppure Nero ha lo stesso la possibilità di giocare e catturare le pietre di bianco e salvare le sue. Però lo deve fare in un altro modo. Provate a pensare a quale. l'idea iniziale non è male perché è quella di togliere libertà bianco, perché partiamo 3 contro 3 per cui bisogna comunque toglierglielo. Il problema è che adesso Nero non ha una mossa con cui può proseguire, perché se gioca lì bianco da Atari guadagna libertà. Ma bianco gioca e va a catturare. Questa di Nero c'è poco da fare. facciamo qua, no? Io non l'ho vista. Non credo che ci siano altre possibilità. E adesso? facciamo qua. facciamo qua. facciamo qua. facciamo qua. io ho due libertà e mi devo catturare, no? Perché qualsiasi cosa giochino immediatamente nell'angolo. Ma a me sembra che bianco abbia due occhi, nero, bianco gioca qua, un occhio suonaco, che è ancora due occhi, ho capito, a questo punto, bianco, qui, via, se ne viene qua bianco gioco, quindi nero deve giocare qua. non ho avuto, 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 non ho avuto. cattura e nero gli viene, vediamo se gioca qui, se gioca qui, bianco mangia, se gioca qui, a questo punto bianco potrebbe cercare di andare via, se bianco gioca qui, nero e a questo punto da attare bianco dovrebbe cercare di fare, no, 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 tu smetti la pietra bianca, smetti quella nera, bianco qua, nero, nero qui, vediamo che si difende, sono due libertà quelle di bianco, ma questa libertà necessita di due mosse per essere tolte, quindi è come se fossero te, però c'è un ko, diciamo, qui dentro dai atari, dai atari, così, arriva comunque, però siamo sulla buona strada, l'avevo vista più semplice, senza andare in qua, in questo modo costringe il sacrificio, bianco non può giocare in via, deve andare in cattura, esatto, ah, sottile, sì, ho capito, l'avevamo visto, sottile, l'avevamo visto qua, no, no, dai a tari, l'avevamo, deve collegarsi, e non votare, e questa non c'è, ah, sì, quella non c'è, ma c'è un altro modo, io l'ho visto un altro, io l'ho visto un altro, un attimo, un attimo, poi qua, forse c'era una risposta di bianco, bianco in realtà non è obbligato, comunque, a collegare, no, e farseli portare via tutte, bianco può anche saltare, bianco c'è attorno, se ci sono delle pietre bianche qui, magari riesce a scappare via con quelle, se ci sono delle pietre nere qui, è morto lo stesso. Rivediamola dall'inizio. Questa c'è. Questa c'è. Allora, questo è il tesuji che porta la forma che avevamo visto qualche settimana fa e si chiama il monumento di pietra. Sì, d'accordo. Ok. Ed è già il secondo tesuji della sequenza, perché il primo è questo doppio lì. Il secondo è costruire il monumento di pietra. in cui fa parte questo e questo, perché la forma è questa qua. E l'ultimo tesuji è questo, che connette. E adesso bianco non può più salvare queste tre. Forse salva le altre, ma queste tre no.